Un saluto dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità sabato pomeriggio doppio corteo, il primo da Piazza Vittorio a Piazza Bocca della Verità, il secondo dal ponte Spizzichino sino a Piramide passando su Via Ostiense. Chiusura al traffico e modifiche per il trasporto pubblico e dettagli su romamobilita.it. Domenica poi in città arriva il Giro d'Italia, la tappa conclusiva della Corsa Rosa si svilupperà tra l'Eur Ostia e il Centro Storico. Il piano mobilità con le chiusure al traffico e le modifiche che interesseranno 70 linee tra bus e tram